Cari amiche e cari amici, adesso farò un riassunto del video precedente e poi andare avanti. Alcuni di voi mi hanno detto, ma un video così bello, con così poche visualizzazioni, è normale. Tutti i video più importanti del canale, che sono questi e quelli strettamente legati anche alla pratica della preghiera profonda, della meditazione, hanno pochissime visualizzazioni. Anche perché se questi video avessero tantissime visualizzazioni, non saremmo ridotti come siamo ridotti a livello mondiale. Comunque, nel video precedente avevo accennato alla preposizione trans, che indica al di là, vuol dire oltre. Ho fatto anche riferimento a Trastevere, oltre il Tevere. E comunque, oltre, più in generale, fa riferimento sia ai limiti temporali, che la memoria tramandata sorpassa e vince, quindi va oltre, sia ai limiti anche dello spazio fisico, ma anche ai limiti dell'esperienza soggettiva. Adentrandoci dentro noi stessi, noi entriamo sempre di più dentro la dimensione del silenzio, che ci porta poi a una comprensione tradizionale che supera l'esperienza soggettiva. E chiunque si cali in questo silenzio e sperimenti la potenza della tradizione, sentirà poi il dovere di trasmetterla agli altri. Ecco, transeo. Trans dare indica proprio questa consegnare, questa consegna transpersonale di un dato culturale anche, ma anche di una conoscenza che si è ottenuta, per esempio, nella prefigliera profonda. Quindi c'è sempre un ricevere e un dare. E il concetto di compassione legato a questa esperienza fondamentalmente mistica consiste proprio in questo, in quel bisogno di donare agli altri questo tipo di conoscenza. Una trasmissione invece in senso etico-religioso riguarda, come abbiamo visto, è il mos maiorum, il costume dei padri, letteralmente, che indica una volontà che è divenuta norma di condotta presso gli antenati, e di questo vi parlerò tra poco. Mos, dunque, è il comportamento etico, uno stile di vita, sono i costumi in senso più generale. Maiorum dei maggiori, dei padri. E quindi il mos maiorum, il costume dei padri, è un sinonimo di tradizione, che è oggetto di trasmissione, il mos maiorum, e non riguarda soltanto l'universo etico e giuridico, ma anche l'universo religioso, no, soprattutto, direi, l'universo religioso, da quale prende vita il mos maiorum. E su questa propria trasmissione, sul costume dei padri, su quanto ci tramandano i padri, nell'antichità si fondarono l'etica e anche il diritto. Accennavo al diritto romano, che sorge proprio da questo, adesso riprenderò il discorso. E dunque mai, come nel campo religioso, Roma, riferendosi all'antica Roma, ovviamente, rimane fedele nelle istituzioni e nei riti alla religione tradizionale. Ecco il mos maiorum. E vi dicevo, questa è una cosa straordinaria, e qui concludevo il video, che quelle determinate formule che si ripetevano, formule proprio precise, tenete presente che, se un sacerdote nell'ambito di un rito sbagliava una parola, o aveva un lapsus, doveva ricominciare tutto da capo. Anche se era l'ultima parola di un lungo rituale, doveva ricominciare tutto da capo. Perché è un po' come oggi, se in qualche laboratorio fanno un esperimento chimico, dove mischia delle sostanze, le deve mischiare in maniera precisa, e se si sbaglia con una sostanza, anche alla fine del lavoro, dovrà gettare tutto e ricominciare tutto da capo. Dunque, Roma resta fedele al mosmaiorum, alla tradizione, alle formule tramandate dai padri. Al punto, vi dicevo, da conservare nei carmina rituali tutte quelle formule, quelle espressioni della lingua arcaica, che erano ormai di difficile comprensione agli stessi sacerdoti, ma quelle erano le formule. Ora, quelle erano formule sacre e ben precise. Il latino e aver cambiato la messa tradizionale in latino con l'italiano non è paragonabile in realtà agli antichi rituali e alle antiche formule, perché quella era una lingua sacra, come è sacro in Sanskrit, ad esempio. Però c'è stato un aspetto molto poco cattolico nel dover mutare il latino, la messa in latino, con le lingue nazionali. È quello che aveva fatto un po', la devastazione che aveva fatto un po' Martin Lutero, traducendo poi nelle lingue nazionali. Perché dicevo, c'è molto poco di cattolico? Perché cattolico significa universale ed era bello sapere che il latino si recitava in tutte le chiese di tutto il mondo, si ripetevano le stesse parole nella messa in latino. Quando queste vengono tradotte nelle lingue nazionali perde il concetto di cattolico, a mio parere, che comprendeva anche quella determinata pronuncia di parole, quella determinata liturgia in latino che favoriva anche un determinato atteggiamento interiore. E come ci confermano tutti quelli che adesso, dopo la devastazione di Bergoglio, stanno riscoprendo la chiesa, la messa in latino. Tornando alla Mosmaiorum, in origine questo Mosmaiorum, ho detto costume dei padri che può essere preso come sinonimo anche di tradizione, era comunque in origine Mosmaiorum tutto l'insieme dei comportamenti sia etici che religiosi e abbracciavano diversi ambiti sociali e abbracciavano anche il valore etico della pietas. La pietas è un sentimento che si ha verso gli dèi che supera anche in realtà l'aspetto sentimentale, è proprio un legame profondo che ti porta ad agire secondo la volontà degli dèi. Sulla pietas infatti si fondavano tutte le altre virtù del cittadino romano, perché Roma era strettamente legata alla presenza degli dèi quando la cosiddetta Roma quadrata, quando Romolo Collarato traccia il solco e comincia a fare una forma non esattamente quadrata, perché gli storici poi ci tramandano qual è stato il percorso, è un quadrilatero comunque. Ebbene, quello lì era il templa diventato da quel momento, il tempio, lo spazio nel quale si manifestavano gli dèi, perché antichamente il tempio non era semplicemente un edificio con le mura, no, tempra erano anche, per esempio, le viscere degli animali quando gli animali venivano aperti nella ruspicina e gli aruspici vaticinavano. Tempra era anche lo spazio nel cielo delimitato da Lituo, il bastone dell'Augure che saliva su una delle cime del Campidoglio, che adesso non esiste più perché è stato spianato dai massoni quando hanno fatto il cosiddetto Artare della Patria, il monumento a Vittorio Emanuele II, ma lì saliva e tracciava anche lì un quadrato nel cielo e a seconda delle nuvole che passavano in quella quadrata degli uccelli del volo degli uccelli della direzione vaticinava anche l'Augure. Queste erano tutte, non erano affatto superstiziosi, anche perché superstizioni, perché i Romani erano un popolo molto pratico, quindi non c'era spazio per le superstizioni. E lì gli Auguri, per esempio, determinavano anche i periodi fasti e nefasti per andare in battaglia e come sappiamo le cose funzionavano in realtà. Però ecco, tornando alla Pietas, a questo legame profondo degli dei che poi si traduceva in comportamenti specifici sui quali si fondava come vi dicevo la virtù, le virtù in genere del cittadino romano. E questa tradizio morum possedeva a Roma un valore normativo e rivestiva proprio una funzione di importanza primaria perché Roma aveva la sua identità, la romanità, la sua identità romana proprio nel mos maiorum, nella tradizione, nel costume dei padri e di conseguenza andando indietro nel tempo, risalendo verso le origini, oltre ai più lontani antenati di cui si potesse avere ricordo, si giungeva al tempo mitico delle origini. E qui interessantissimi tutti gli studi che ha fatto Mircea Aliade e che consiglio ovviamente a chi non l'abbia mai letto. E insomma, questo tempo mitico, il tempo delle origini, che è proprio la fonte originaria della legittimazione della tradizio morum, della tradizione, e quindi anche dei mores stessi, dei costumi stessi, perché quello è il tempo in cui vissero gli eroi che furono anche i fondatori non solo dell'Urbe, Romolo fondò la città, l'Urbe, ma anche, per esempio, la religione. Numa Pompilio, Numa, non è un caso che è Numa che fonda la religione, perché Numen è la divinità in latino, e il Numen è anche la potenza attiva degli dèi, quando c'era una manifestazione anche simbolica molto forte, accadeva qualcosa, era il Numen, quindi è una manifestazione degli dèi. C'erano alcune di queste manifestazioni che potevano anche essere interpretate come nefaste, allora i sacerdoti dicevano come comportarsi, cercavano di comprendere cos'è che non andava bene gli dèi del comportamento dei romani e attuavano un correttivo. Numa Pompilio è colui che praticamente fonda la religione romana, arcaica, è il secondo re di Roma, Romolo, Numa Pompilio, Tullo, Stilio, è il secondo re di Roma e da lì quindi colui che dà in là la religione proprio arcaica ispirato da un'entità non umana. Marco Prima i fondatori divini da questi scaturivano le norme di convivenza civile che erano norme sacre e questo non riguarda attenzione l'antica Roma ma riguarda proprio le società tradizionali l'inizio della playlist inizio con Genon con le profezie di Genon tra virgolette profezie e con la frase che sono solito citare periodicamente che la società moderna è un'anomalia proprio perché non si fonda più sul sacro per la prima volta nella storia di tutta l'umanità anche dal punto di vista non solo storico ma antropologico è la prima dove si fonda tutto sul materialismo e questa è l'anomalia l'anomalia che ci ha ridotto a stare qui a andare in giro mascherati con e sempre più robotizzati quindi Numa Pompilio Numen era esso stesso era la manifestazione del Numen e prima di lui i fondatori delle norme di convivenza civile che spesso erano dei miti ma la capacità di Roma oltretutto era storicizzare l'elemento mitico quindi non bisogna fare troppa distinzione tra il mito e la realtà questa è sempre una distinzione che facciamo noi moderni in maniera così rigida il comunque il significato di trans andare oltre oltrepassare è anche un risalire verso le origini e esprime questo passaggio dal mondo degli uomini al mondo degli dèi e dalla dalla storia dalla storicizzazione dal tempo della storia vissuta fino a ritroso ad arrivare al tempo sacro e il tempo sacro è l'origine quindi il fondamento di tutta la storia e pensiamo che dopo la morte di Romolo ci fu un anno di transizione che fu dovuto probabilmente alla situazione che si era creata Romolo è colpito ci dice il mito che è colpito da un fulmine e ripreso in cielo Romolo era nato da un dio e da una vergine no? Marte e una vestale Rea Silva no? e viene ascende in cielo praticamente viene ripreso da un fulmine e ascende in cielo ripeto questa distinzione tra ma no è un mito è una leggenda questa è proprio tipico della modernità nei fatti queste funzioni nell'antichità dei simboli erano conosciutissime e anche da questo modo di interpretare la realtà poi nascono delle situazioni molto concrete come ad esempio vi dicevo il diritto romano comunque Romolo muore trascorre un anno di transizione c'è uno sbandamento per questa perdita misteriosa di Romolo che sparisce viene eletto Numa Pompilio che è un re sabino eh? all'inizio Numa Pompilio non ne voleva sapere di accettare l'incarico poi si convinse parlando con gli altri che diventando re avrebbe re avrebbe reso un servizio proprio agli stessi dei ed è questo che lo convince vedete come si era sensibili rispetto a una realtà che supera i limiti della nostra mente e dei nostri sensi e Numa Pompilio verrà ricordato in particolare sotto il profilo religioso perché fu re e pontefice e quindi nella sua figura eh si comprendeva il re Rex è colui che tira la linea dritta no e il pontefice il pontifex è colui che è ponte tra il regno degli uomini e il regno degli dèi e poi fu sotto Augusto che si riunirono questa figura poi di re e pontefice insieme nel caso di Augusto imperatore e pontefice insieme e pontefice e pontifex passò poi come tantissimi elementi tradizionali romani come titolo del papa di Roma pontefice pontifex vicario di Cristo e continuò ad essere ponte tra il regno degli uomini e il regno degli dèi nel caso del papa il regno di Dio era finito il tempo degli dèi era cominciato il tempo del Dio unico quindi l'opera di Numa contribuì a mettere ordine alla religione che in un momento in cui risultava particolarmente confusa proprio perché Roma in origine è una scelta multietnica dove si fondano c'è anche lì se ricordate il ratto delle sabine elementi di storia e leggenda che si fondono ma ripeto non è molto importante fare tutte queste distinzioni e separazioni perché poi Roma se non si capisce che Roma storicizzava i miti storicizzava i miti non si capisce lo spirito romano così l'origine è multietnica sono tutti quelli che abitavano anche nei colli vicini e in ogni caso non troppo lontani e ognuno portava a Roma i propri dei l'unico culto che veniva riconosciuto all'inizio poi da questa fusione di popoli era il culto della dea Vesta che custodiva il fuoco sacro attraverso le sacerdotesse anche qui ci sono antropologi che hanno fatto risalire questo al fatto che gli uomini andavano a caccia antichamente le donne mantenevano il fuoco acceso per poter cucinare quando i mariti tornavano con la cacciagione fatto sta che le vestali furono un correggio sacerdotale interamente femminile fondamentale in tutta la storia di Roma pensate erano così importanti che se un condannato a morte mentre veniva portato nell'attuale Piazza Vittorio dove oggi c'è Piazza Vittorio allora era lì il luogo delle contagne a morte e incrociava una vestale su una bica veniva immediatamente liberato e perdonato quindi immaginate la potenza delle vestali che tra l'altro avevano in loro nomi proprio e posti anche nel Colosseo siamo nell'80 dopo Cristo il Colosseo e avevano i posti proprio oggi parliamo di posti innumerati erano proprio nominali per le vestali pensate quante erano potenti insomma in questa situazione Numa Pompili istituisce una serie di istituzioni crea una serie di istituzioni religiose e anche una gerarchia tra i vari dei quindi da questi punti di riferimento che sono stati poi decisivi nello sviluppo della storia di Roma perché come abbiamo visto il rapporto di Roma sin dalle origini dal quadrato tracciato con il zorco con l'aratro da Romolo fin da quel momento Roma era una città sacra e quel templum quel quadrato tracciato da Romolo era il luogo di manifestazione degli dei e quindi fu Numa tra l'altro che divise l'anno in 12 mesi seguendo prima di tutto il ciclo della luna perché la luna poi non completava questo ciclo fece degli adattamenti perché avanzavano tre giorni per arrivare un anno intero tutto era legato al ciclo dei solstizi e lui stabilì interporre poi dei mesi intercalari e così via adesso senza entrare troppo nello specifico però oltre alla religione si occupò anche del calendario che non era una cosa scissa dalla religione perché mettetevi in testa che nulla era scisso dalla religione quindi nulla non era scisso dalla tradizione e quelli che si spaventano quando qualcuno sente parlare di yoga yoga è un termine indoeuropeo in italiano diventa il gioco viene dalla parola yoga che è quello che unisce i buoi e quindi religione religio significa lo stesso riunisco quindi la religione o lo yoga in realtà dal punto di vista dei concetti sono la stessa identica cosa dal punto di vista della lingua non bisogna avere paura delle parole bisogna seguire dei percorsi con le parole dall'antichissimo indoeuropeo deriva zeos che in greco significa Dio zeus che è il vertice degli dei dalla corruzione di teos viene in latino latinizzato dominus e quindi ci sono tutta una serie di collegamenti anche molto interessanti seguendo un discorso strettamente legato all'etimo delle parole e fu proprio Numa a distinguere i giorni fasti dai giorni nefasti cosa fondamentale perché questo determinava anche l'inizio dei combattimenti da parte dei romani e quindi e anche i giorni in cui bisognava o non bisognava prendere decisioni pubbliche importanti che riguardavano Roma tra l'altro il vocabolo Numen indicava proprio la presenza della divinità la volontà onnipotente della divinità quindi indicava il Dio stesso e qualunque essere divino Numen Numa Pompilio una piccola curiosità da Numen poi deriva il vocabolo Numinoso che troverete molto negli scritti di De Giorgio di Evola di Genon negli scritti del tradizionalismo in generale perché Numinoso deriva da Numen ed è un vocabolo appunto utilizzatissimo nell'ambito della cultura tradizionale che fu coniato da un teologo che si chiamava Rudolf Otto c'è un'opera intitolata Il Sacro del 1917 che è ancora un classico quest'opera e Rudolf Otto introdusse sia nella filosofia che nella storia delle religioni il vocabolo proprio Numinoso da Numen per indicare l'esperienza sovra-razionale di cosa? di una presenza invisibile che nello stesso tempo è una presenza maestosa potente che nello stesso tempo incute paura perché il mistero ha sempre un suo aspetto che fa paura perché non rientra nell'ordinario no? e il Sacrum significava separato infatti no? e quindi il Numinoso è questa presenza invisibile maestosa che ispira terrore e attira nello stesso tempo questa esperienza costituisce l'elemento essenziale proprio del Sacro e la fonte di ogni atteggiamento religioso dell'umanità quindi la tradizione collega ogni momento della storia con la sfera del Sacro e è essa stessa la tradizione di origine divina Roma come qualunque altra civiltà tradizionale che fonda si fonda su tradizioni religiose tutto fonda sulla sua tradizione religiosa le istituzioni le leggi e contempla proprio alle origini un elemento semidivino. Questo è bellissimo ed è confermato anche da Plutarco, la vita di Romolo. Perché? Perché Plutarco scrive, sentite che meraviglia, Roma non avrebbe potuto assurgere a tanta potenza se non avesse avuto in qualche modo origine divina, tale da offrire agli occhi degli uomini qualcosa di grande e inesplicabile. Bene, cari amiche e cari amici, nel prossimo video approfondiremo anche gli aspetti, ecco, come in cielo così in terra, come in alto così in basso, gli aspetti proprio istituzionali di Roma legati alla tradizione. Poi riprenderemo anche un discorso etimologico della tradizione e sviscereremo un po' alla volta tutti gli aspetti della tradizione. Se volete una continuità nei miei video, una pubblicazione quotidiana, dovete lasciare un contributo al canale, altrimenti per motivi personali sarò costretto a pubblicare episodicamente. Concludo rileggendovi Plutarco, che meraviglia. Roma non avrebbe potuto assurgere a tanta potenza se non avesse avuto in qualche modo origine divina tale da offrire agli occhi degli uomini qualcosa di grande e inesplicabile.